Riprendiamo la linea da qui da Sassuolo e abbiamo catturato Berto, hanno catturato Berto che deve fare il suo lavoro, è il momento di pettinarlo per raccogliere il cashmere. Sembra un attrezzo di torturi, in realtà lui ha anche il pane davanti quindi può mangiare per il tempo necessario. Allora intanto prima di cominciare a pettinare Nadia, il cashmere abbiamo detto non è questo. Come ti facevo vedere prima, quello che tu vedi a colpo d'occhio in tutte le capre esternamente è la giarra, c'è il rivestimento, il suo pelo, però se tu lo vuoi vedere meglio è quello particolarmente grosso, qualcuno mi dice dei capelli, vedi com'è lungo, questa è la giarra. Sotto però se vai a vedere c'è quel batuffolo che parte proprio da sotto che è molto più soffice, molto più leggero, se tu lo senti sembrerebbe, prova a mettere una mano dentro, senti com'è? È morbidissimo sotto, sembra un cuscino di piuma, anche Davide si allunga. Allora guarda, siccome è il momento della pettinatura perché questo cashmere che nasce a contatto della pelle dell'animale si è distaccato. Guarda, se noi puntiamo, questo è un semplice pettine per pettinare i cani, noi puntiamo il pettine e tiriamo su così, guarda che io non sto facendo tanta forza, devo oltrepassare tutta la giarra e questo qua che viene via è cashmere. Ah, quindi questo è il cashmere. Questo è il cashmere. Praticamente è una protezione sulla cute dell'animale per proteggersi dal freddo, dal troppo caldo. Quindi sotto il suo vello naturale lui crea questa protezione, questo cashmere, che praticamente lo fa tenere caldo. E non è un caso allora che la primavera sia il momento del distacco del cashmere. Il cashmere, vedi, è incredibile. Io metto sotto, guarda, lo vedi quello che viene su, questo è il cashmere. Questo è il cashmere e lo vedi che è un battufolino. E questo è il filo lungo invece la giarra. I fili lunghi che vengono via sono invece la giarra, la parte esterna. Quindi noi ora ci mettiamo. Ma senti, però è una procedura bella lunga pettinare una capra, no? No, no, perché innanzitutto è un solo periodo dell'anno. In primavera, in primavera avanzata, iniziano a perdere questo pelo, questo cashmere. E noi lo raccogliamo. Prendiamo una capra, per non farla stancare, la pettiniamo due barra tre volte per dieci minuti, un quarto d'ora. Se resiste è anche mezz'ora. E dopodiché, quindi con 25 capre, si fa presto, voglio dire. Per cui non necessariamente lo dovete togliere tutti in una seduta. Quando vedete che lei è stufa, o lui in questo caso. Tutto questo è distaccato. Ora, io faccio un pochino di resistenza perché ha la giarra lunga, perché non voglio tirare troppo forte. Quindi faccio piano, attraverso la sua giarra lunga. Ma quello che mi rimane attaccato al pettine, quello che mi rimane attaccato al pettine, è il cashmere. E se voi non le pettinaste, loro lo perderebbero comunque? Lo perderebbero. Si stacca, si stacca in modo del tutto naturale questo qua. In parte lo perdono, in parte purtroppo si infiltrisce e quindi diventa anche un peso per loro, perché delle volte siamo costretti a tagliare delle ciocche perché essendo infiltrito non più buono, a loro darebbe solo fastidio. Ma a che età cominciano a produrre il cashmere? Cioè i cucciolini che abbiamo appena visto il prossimo inverno già ce l'avranno? Sì, assolutamente sì, perché il cashmere cresce quando fa freddo, quindi i cuccioli sono nati adesso, c'è caldo, per cui hanno solo la giarra. Quando saranno il prossimo autunno-inverno con i primi freddi, avranno freddo, nascerà il cashmere. Quindi la prossima primavera anche a loro andremo a pettinare e troveremo il primo cashmere. Vedi? Questo qui è completamente staccato, facendo in questa maniera, guarda, lo vedi che viene via tutto quanto? E allora lasciandolo stare, lui andando in giro vicino alla rete, vicino ai rovi, si staccherebbe, infatti trovi delle ciocche di cashmere lungo il recinto. Ecco, ma un animale, una capra, quanto cashmere dà? Bella domanda, questa domanda che tutti vorrebbero sapere la risposta. Allora, chi me la dice? La risposta di primo acchitto è quanto cashmere produce una capra? Poco. Poco. Allora, il poco quanto? Le femmine siamo intorno ai 150-300 grammi. Il maschio castrato, come anche Berto, arriviamo anche a 500-700 grammi. Grammi. Uno dice, ma c'è molta differenza tra maschio e femmina. Metti in considerazione che il periodo invernale, il periodo di crescita del cashmere nell'animale coincide però anche con la gravidanza della femmina, che in primavera, come adesso, infatti, ci danno il cashmere ma ci daranno anche i cuccioli. Per cui probabilmente anche il fatto di impegnare le proprie forze, le proprie energie anche in una gravidanza è che ci produce un po' meno cashmere. I maschietti castrati, invece, questa fatica non la fanno. E quindi possono dare tanto cashmere. Normalmente il maschio, che poi sarà eventualmente maschio o castrato, è tendenzialmente più grande come stazza. Il maschio è sempre un po' più grande della femmina, per cui comunque una superficie corporea più grande. Ecco questa differenza di produzione tra l'uno e l'altro. Ma visto che, allora, per voi, questo dell'allevamento delle capre cashmere, abbiamo detto, è un hobby, una passione. Però comunque tu hai imparato a tessere, a lavorare al telaio, producete anche delle produzioni, maglie, sciarpe, stole vostre. Il cashmere, una volta raccolto, andrà, immagino, lavato, separato dalla giara che c'è in mezzo? Una volta raccolto, e questo si dice normalmente sucido, il pettinato, dove noi abbiamo il cashmere, abbiamo la giarra, abbiamo lo sporco che può essere presente nell'animale, vedi, in questo caso questi filini. Quindi questo prodotto deve essere, prima di tutto, degiarrato, deve essere poi lavato e poi cardato ed infine filato. Questo procedimento è un procedimento che io non posso fare manualmente. Ci ho anche provato, ho provato a degiarrarlo e mi sono messo un inverno, tira via i fili, tira via i fili. Un inferno, credo. Non si finisce mai. Poi si può lavare perché con sapone di marsiglia lo si lava, si sciacqua e si fa asciugare al sole. E si può cardare perché cardare vuol dire mettere le fibre tutte nello stesso verso e con i pettini cardatori questo si fa. Ma al momento in cui andrebbe invece filato, anche con il filarino, non ci si riesce. Non ci si riesce perché? Perché il cashmere è una fibra corta. Corta. Corta significa che una volta ottenuto questo batuffolino, io che vado con il filarino a filare, comunque anche se pedalo fortissimo non riuscirò mai ad andare così veloce da imprimere alla fibra la torsione sufficiente per mantenermi un filato. Quindi questa trasformazione noi la facciamo fare. Facciamo fare la trasformazione del nostro cashmere e poi ci viene restituito il gomitolo del nostro cashmere che noi invece, come hai detto bene tu, andiamo a trasformare facendo in prevalenza sciarpe, perché lavora appunto al telaio come dicevi, ma anche piccoli manufatti all'uncinetto per cose da neonati, tenendo in considerazione che il cashmere è assolutamente anallergico. Una curiosità, quando si parla di qualità, perché il cashmere è comunque un prodotto molto ma molto pregiato, immagino ci siano anche degli standard di qualità, da che cosa dipendono? Dalla lunghezza, dal diametro, da che cosa? Sono quantificabili? Allora, il cashmere si misura in micron. Ecco perché quando qualcuno mi dice, uh ma che bella capra cashmere, e io poi, vabbè, in modo scherzoso dico, mi puoi dire che bella capra. Non mi puoi dire bella capra cashmere, perché siccome il cashmere lo si misura in micron, non è che a occhio tu mi possa dire che è bella, valida capra cashmere. Come si fa quindi ad avere questo parametro? Al momento della pettinatura, quella che noi stiamo facendo, noi preleviamo un campione e facciamo fare un fiber test, che è l'analisi del nostro pettinato. In quel caso noi otteniamo dei risultati, il dato principale è sicuramente il micron, perché il cashmere si misura in micron e si considera un ottimo micron, quello al di sotto dei 19 micron. Quindi questo è il dato principale, però abbiamo anche altri valori in questo nostro esame che abbiamo fatto, cioè quanto il nostro campione sia, tra virgolette, riccio, perché noi vogliamo ottenere un filato liscio, quindi tanto più è riccio e tanto è meno pregiato. Allora, quante capre si vogliono per fare una sciarpa? Dipende da quante è la capra e da quante è la sciarpa. Linea di massima. Una capra e una sciarpa? Perché siccome il cashmere è un filato leggero, diciamo che ipoteticamente una sciarpa di un metro e ottanta per quaranta pesa intorno ai 150-200 grammi. Sì, quindi abbiamo detto tutto. Una capra, cioè per assurdo se uno viene e dice vorrei una sciarpa di quella capra lì, uno potrebbe anche... Il colore invece non si può scegliere perché più o meno è sempre lo stesso. Certo, perché cambia leggermente la tonalità, non è che la capra nera faccia il cashmere nero o la capra marrone. Il cashmere è praticamente una tonalità sul beige che varia di pochissimo tra una cosa e un'altra, ma è quello lì. Se uno vuole fare un manufatto con il suo cashmere deve mettere in considerazione, noi facciamo le cose diciamo al naturale, di mettere in considerazione che vengono di quel colore lì. Non si può scegliere, voglio una sciarpa rossa, voglio una sciarpa verde, a meno che uno non usa dei coloranti. Certo, a quel punto se uno interviene con la tinta, la fa del colore che vuole. Ovviamente noi abbiamo parlato tantissimo di questi animali che sono davvero splendidi, tantissimi di cashmere, però sono animali che sono, avete visto, anche molto molto docili se vengono abituati e quindi immagino che poi i vostri cuccioli vadano anche in aziende agrituristiche, fattorie didattiche, qualcuno anche per la pet therapy, quindi insomma le destinazioni sono tante. Al di là di sciarpe sto le maglioni. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti quando qualcuno mi chiede la capra cashmere, io dico che è una capra che può essere utilizzata veramente per tanti scopi. Come abbiamo visto è un ottimo tosaerba naturale, quindi può essere utilizzato per la pulizia del sottobosco, per la pulizia di terreni impervi e quant'altro. Uno, lasciati liberi non ci chiedono niente ma rimangono un po' in selve e chiti. Se invece noi li teniamo avvicinati, ovviamente come si fa con tutti gli animali, con del cibo, qualcosa di goloso, si vorrei usare a domestica o comunque possono diventare veramente degli animali da compagnia, perché ti seguono lungo tutto il percorso che tu fai, come farebbe un cane, come farebbe eventualmente forse neanche un gatto. E per questo motivo allora sono particolarmente indicate per fattorie didattiche, perché come vedi è un animale molto docile, dove un bambino può tranquillamente avvicinarsi, provare anche a pettinare, perché l'animale non dà fastidio e non è irritato di questa cosa che stiamo facendo. Sono un'ottima attrazione in agriturismi. Sono indicati anche per la pet therapy, è un animale indicato molto per la pet therapy, perché ripeto, è un animale che nasce originariamente selvatico, però se uno lo sa trattare, lo avvicina, ci sta a fianco, prima o poi lui si addomestica. Ecco, questi invece sono i ferrocissimi cani da guardiania, li vediamo lì. Del resto il cancello è chiuso, i rompiscatole, fra virgolette, sono fuori e loro sono assolutamente tranquilli, quindi quello è il cane feroce, però il cancello non cerco di aprirlo. Io vi ringrazio perché ci avete portato in un mondo davvero incredibile. Grazie a voi che ci avete seguito, come sempre in sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti, perché potete vedere e rivedere le nostre puntate. Grazie ancora e ci ritroviamo la settimana prossima.